60 minuti intensi, belli, interessanti. Ovviamente è una cosa che dico sempre, la nostra amata isola è un setti cinematografico naturale. Qui il posto ovviamente ha giocato a favore di quest'opera straordinaria, composta, sentita, vista, gustata, ammirata sotto tutti i punti di vista. E' come un diamante che lo vediamo dalle varie sfaccettature. Quindi dico straordinario, io avevo già visto l'anno scorso l'Inferno, mi è piaciuto rivedere l'Odissia di adesso perché è stato veramente coinvolgente. Gli attori tutti straordinari. Seguite.